Buongiorno a tutti, io sono Marco Zunino, porto i saluti di Mauro Sandreani che non è potuto intervenire per impegni professionali. Io come qualcuno magari saprà non sono un preparatore atletico, sono un direttore sportivo, ho appena concluso la mia ottava stagione consecutiva in Serie A come coordinatore dello scouting, oggi lavoro per il Bologna, faccio parte dello staff di Riccardo Bigon, Mauro Sandreani invece è un allenatore ed è responsabile dello scouting del settore giovenile della federazione. Io volevo qui sottolineare come oggi anche lo scouting sta diventando una professione del calcio riconosciuta, dal 2015 ho avuto l'opportunità, il piacere e l'onere anche di partecipare all'organizzazione del primo corso per professionisti, per osservatore professionisti in Italia indetto dal centro tecnico di Coverciano grazie a Paolo Piani e a Renzo Corrivieri e quindi oggi l'osservatore in Italia è una professione ed è preceduto da una formazione federale. Una formazione dove per individuare il talento calcistico l'osservatore ha bisogno assolutamente di intercettare, di percepire. L'osservatore lavora con gli occhi, lavora osservando sul campo da una tribuna piuttosto che davanti a un video, ma è fondamentale oggi come mai esistono ormai da 30 anni dei protocolli per l'identificazione del talento sportivo e poi trasversalmente del talento calcistico dove la qualità fisica e la qualità atletica ormai sono determinanti e per certi versi in una prima fase di analisi e di scelta vanno a superare la qualità tecnica e tattica. In assoluto oggi si parte dal fisico per arrivare alla qualità atletica per iniziare la scelta di un calciatore. In Inghilterra si parla come prima analisi, come prima valutazione di individuare la qualità del pace. Il pace si potrebbe diciamo tradurre come l'intensità del calciatore, come la qualità della ritmizzazione di un calciatore, della forza resistenza di un calciatore. In Italia in assoluto due qualità che sono determinanti sono la rapidità e la resistenza. Io faccio un esempio pratico. A Napoli quando è arrivato Rafa Benitez, un allenatore di livello internazionale che pratica un modulo, uno dei due moduli più praticati nel mondo, l'1-4-2-3-1, i due attaccanti esterni del 3-1 devono avere qualità atletiche pari a quelle di un difensore esterno perché devono essere in radio di coprire l'intera fascia nella fase difensiva e nella fase offensiva. Ecco che la scelta che è caduta su Caillon che in quel momento non era il calciatore che voi avete visto a Napoli che va in doppia cifra di gol e di assist tutte le stagioni ma era la riserva teoricamente di Cristiano Ronaldo nel Real Madrid e aveva finito il suo campionato con Mourinho come difensore esterno. Ecco che Caillon viene scelto proprio perché aveva potenzialità da uomo gol e da doppia cifra, l'aveva fatto vedere nelle serie minori in Spagna, l'aveva fatto vedere nel spagnolo ma soprattutto era in grado di coprire per intero la fascia destra, non per caso Mourinho all'occorrenza lo impiegava da difensore esterno sulla fascia destra. Così come la consagrazione di Insigne è stata possibile, certamente un giocatore di qualità, certamente un giocatore che si era messo in luce a livello giovanile per la sua qualità tecnica soprattutto, ma soprattutto per la sua qualità atletica gli ha permesso di consacrarsi a livello internazionale, soprattutto di essere utile in un ruolo così difficile come quello dell'attaccante esterno del modulo 3-1, dell'attacco 3-1 e questo poi gli ha consentito di rimanere in Serie A come un calciatore importante quando invece prima si era messo in luce a livello ma diciamo tecnico in serie minori. Voi sapete meglio di me come la Serie A, come vale la Champions League, vale la Nazionale A, hanno valori assoluti tanto superiori a quello che viene dietro. Affermarsi in Serie B, affermarsi in Lega Pro, affermarsi nella Nazionale Under 21 non è la stessa cosa come affermarsi in Serie A o in Champions League. E proprio nel gergo che abbiamo noi addetti ai lavori, quando noi vogliamo individuare un calciatore di prospettiva internazionale, un calciatore di prospettiva assoluta, al di là della sua qualità tecnico-tattica che poi arrivato a un certo livello è già stata accettata e definita, noi diciamo un calciatore da Champions League. Ecco un esempio ultimo di calciatore da Champions League, non per caso, è in una grande squadra, è Gagliardini. Gagliardini è un altro esempio di calciatore che mette in evidenza soprattutto e in prima analisi la qualità fisica, la fisicità di un calciatore da Champions League. Gagliardini sembra il prototipo ideale per la Premier League, sembra un calciatore inglese, ha una qualità fisica, valori antropometrici superiore alla media soprattutto se ragioniamo sull'Italia e poi ha una qualità atletica decisamente completa che va dalla forza alla resistenza alla flessibilità. Tornando al calcio, il calcio è arrivato un po' dopo su certe valutazioni, mentre lo scouting e i valori predittivi come appunto la qualità fisica atletica negli Stati Uniti ci sono dagli anni 20 del Novecento, il calcio ha creato dei protocolli di valutazioni negli ultimi 30 anni. Si è cominciato nell'86 grazie a Johan Cruyff che all'Ajax ha ideato il TIPS, che è un modo di valutare il calciatore che viene assolutamente ancora oggi adottato anche dalla Federcalcio italiana, alla quale si è aggiunto una S che sta proprio per struttura fisica. Il TIPS secondo Cruyff era più concentrato sulle capacità coordinative perché lui metteva a fuoco oltre la T come tecnica, la I come intelligenza tattica, quindi la velocità di selezione, la capacità di stare in campo. E poi la velocità, lo Schnelling Kite che vuol dire appunto la velocità, la prima S, ma la velocità di esecuzione prima che la velocità atletica. Quindi la capacità di correre in modo intelligente per fare la cosa giusta un secondo prima dell'avversario. Io ho avuto la fortuna di incontrare Cruyff quando allenava l'Ajax e lui mi raccontava anche cos'è stata la sua fortuna da calciatore. Voi sapete l'Ajax proprio a livello atletico fu una squadra che rivoluzionò il calcio. Si parla molto di calcio totale quando si parla di Ajax inteso che ogni calciatore sapeva fare tutti i ruoli non è vero. E' vero invece che loro correvano in modo diverso e si allenavano in modo assolutamente moderno 30 anni prima degli altri. Questi li faceva correre e coprire il campo in maniera differente ma i ruoli erano molto definiti. La qualità però ad esempio di Cruyff lui mi ha detto la mia qualità superiore agli altri era mi muovevo un secondo e mezzo prima dell'avversario. Cioè aveva una ritmizzazione, una trasformazione motore, un'anticipazione motore superiore alla media. E io dico sempre, lo sottolineo, spesso noi analizziamo calciatori di questo livello come Maradona e Cruyff come assoluti esempi di tecnica calcistica, tecnica podalica, però in realtà sono assoluti esempi anche di qualità fisica e atletica. E grazie a quello poi possono permettersi di difendere la loro qualità assoluta a livello tecnico. Perché Cruyff è forse stato il campione assoluto di flessibilità. La sua mobilità articolare, la sua elasticità muscolare, soprattutto nelle caviglie, nelle ginocchia e nelle anche, era clamorosa. Gli permetteva di essere assolutamente imprevedibile. Lui era un destro naturale che però gestiva la palla perfettamente con i due piedi e questo appunto gli permettiva di ondeggiare e non permettere mai all'avversario di capire da quale lato sarebbe andato via palla al piede. E l'Italia ne ha pagato le conseguenze in Coppa dei Campioni con la Juventus e l'Inter. Così come Maradona è stato un super campione di forza. Maradona era abilissimo perché aveva una forza massimale che non è tipica del calciatore, oggi lo è sempre di più, non lo era assolutamente fino agli anni Ottanta. Oltre alla forza esplosiva assoluta che gli permetteva, oltre a una qualità muscolare ipertrofica, soprattutto nella schiena e nel quadricipite, gli permetteva di difendere la palla come nessuno e lui poi da fermo, grazie alla sua qualità tecnica, che ovviamente la qualità tecnica viene accompagnata da qualità coordinative superiori, lui anche da fermo, anche non vedendo la porta, poi poteva piazzare la palla, ma intanto la difendeva e non permetteva di riconquistare la palla. Questo per esempio è una cosa che differenzia tanto Maradona da Messi. Messi ha meno forza massimale per difendere la palla, però ha una qualità di destrezza e di ritmizzazione quando conduce la palla e punta l'uomo assoluta, che non permettono al marcatore, anche con una trasformazione motoria a livello di un gentile o di un cannavaro, di riuscire a essere efficace nel marcamento a uomo e soprattutto nell'anticipo frontale. Ecco, queste cose l'osservatore deve imparare a conoscerle perché la regola dell'osservatore è tu puoi vedere solo quello che conosci, se tu conosci lo vedrai in campo e quindi lo rileverai e lo riporterai nella relazione. E questo per noi è importante proprio perché la prima cosa che oggi l'allenatore, il direttore sportivo chiede a un'area scouting è la qualità fisica e atletica del calciatore. Fisico non vuol dire necessariamente che uno deve essere alto 1,90 m, assolutamente, anche se poi oggi per esempio il livello antropometrico è determinante per alcuni ruoli. Oggi un portiere di prospettiva internazionale, ma diciamo di prospettiva di serie A di un livello medio-alto, veramente non può essere sotto 1,85 m. Pensate che noi abbiamo un esempio storico dei tre portieri campioni del mondo che ci fanno capire come, anche ovviamente unito alla dieta, al mondo che è cambiato, soprattutto alla qualità anche dell'allenamento, noi abbiamo il portiere dell'Italia campioni del mondo degli anni 30, Combi, che non arrivava al 1,80 m, si aggirava intorno al 1,78 m, non ci sono dei dati certi, però sicuramente non arrivava al 1,80 m, aveva una morfologia quasi da brevilineo, arriviamo a Zoff, campione del mondo nell'82 che superava di poco il 1,80 m, aveva una morfologia da normotipo, da normolineo, per arrivare poi a Buffon che è proprio un'icona del portiere moderno, che è un vero longilineo, supera il 1,90 m e questo proprio per capire come il calcio si è trasformato. Quarant'anni fa un portiere che superava il 1,90 m o un ragazzo che si approcciava al calcio che superava il 1,90 m gli veniva detto non puoi giocare a pallone. Oggi, soprattutto in alcuni ruoli come quello del centravanti, oggi invece il portiere ha necessità di essere alto perché l'altezza dei centravanti si è incredibilmente inalzata e oggi a livello internazionale troviamo dei centravanti non solo corredati di forza massimale ed esplosiva come prima non succedeva, oppure succedeva quando incontravi magari profili che arrivavano da scuole etnie diverse dalla nostra come il Nordal del Milan degli anni 50, mentre tipicamente il calciatore è sempre stato un brevi tipo, normotipo, rapido e veloce, più che potente. Oggi la potenza, cioè l'unione della forza e della velocità sono determinanti per la qualità di un calciatore. A qualunque livello è ovvio che nelle serie minori la potenza, la qualità del valore antropometrico è inferiore perché, diciamo appunto, il livello fisico, parlo dell'Italia, è inferiore, proprio perché c'è una selezione verso l'alto dove i più fisici e i più atletici salgono di categoria quasi naturalmente. Anche perché, ripeto, poi la qualità atletica è la difesa migliore alla qualità tecnica e porta all'efficacia assoluta della qualità tattica, ma è come in Italia dove la prima, diciamo, richiesta tattica che viene fatta è quella della marcatura dove ovviamente la qualità atletica e fisica è determinante. In questo caso, dicevo prima, non necessariamente un calciatore deve essere alto 1,90 m, ma deve essere alto per quanto pesa. Ci sono dei siti che molti addetti ai lavori o appassionanti di calcio seguono che riportano solo l'altezza del calciatore. Per noi professionisti a volte è più utile sapere il peso del calciatore insieme all'altezza, anche se io dico attenzione perché i dati che noi troviamo sugli almanacchi online sono di terza mano ovviamente, sono dati riportati da qualcun altro, non sono dati dell'area medica, quindi noi non possiamo sapere veramente se quel calciatore è alto così e pesa così. È più facile coglierne la morfologia, è più facile coglierne il suo matotipo che ci permette poi di capire se più o meno quei dati che noi conosciamo sono più o meno veritieri. Ci sono dei casi di calciatori riportati di 1,95 m, io parlo della serie A che sono 1,86 m o calciatori riportati di 1,69 m che sono 1,75 m. Attenzione perché passare da un breve tipo a un normotipo cambia la carriera di un calciatore e passare da un normotipo a un longitipo cambia la carriera di un calciatore. Quindi a volte è veramente fondamentale coglierne veramente la qualità. Questo per dire come oggi nel calcio non si può fare a meno della qualità atletica e fisica. Poi lo stesso preparatore atletico interviene nella parte più delicata della selezione del talento. Esiste un protocollo internazionale dove per l'individuazione del talento si passa in quattro fasi dalla detection che è puro scouting all'identification e alla confirmation che è proporre relazioni incrociate con video e magari anche statistiche fino alla selection. La selection si fa sul campo soprattutto a livello giovanile è determinante il campo e soprattutto a livello giovanile è determinante proprio l'intervento dello specialista, l'intervento del preparatore atletico che ci va a indicare soprattutto le capacità coordinative che sono poi quelle che ci daranno intanto l'idea di come il calciatore o meglio il bambino potrà diventare un calciatore o ha l'attitudine a muoversi con la palla e questa è la base. Unitamente poi lo accompagneremo a migliorarsi sotto l'aspetto atletico dove si può perché sappiamo che la velocità ovviamente non la puoi migliorare e non la puoi allenare per migliorarla ma in assoluto puoi migliorare la forza, puoi migliorare la resistenza, puoi accompagnare la flessibilità che si perde con gli anni però è una cosa per esempio che a livello giovanile soprattutto quando il ragazzo si trasforma e diventa uomo è fondamentale accompagnarlo perché lo stesso ragazzo perde un po' di identità atletica diciamo e per questo però non vuol dire che lui possa lo stesso essere utile con un'altra morfologia certamente dovremo migliorargli magari le posture e migliorare la coordinazione se generalmente si può acquistare anche 15 centimetri in due anni e quindi ovviamente cambia completamente l'equilibrio come ecco capacità come l'equilibrio dinamico in volo caratteristiche del calcio nel settore giovanile sono componenti fondamentali da tenere monitorate e lo fa appunto il preparatore proprio perché questo darà il massimo risultato nel professionismo dove magari non si andrà più a rilevare l'equilibrio ma l'equilibrio permetterà il miglioramento di altre capacità fondamentali nel professionismo come l'orientamento spazio-tempo, come l'anticipazione motoria ci sono ruoli fondamentali che non necessariamente implicano una qualità atletica assoluta ma una qualità coordinativa può superare la qualità atletica la velocità di esecuzione, la velocità di selezione può superare anche la qualità atletica abbiamo avuto un super campione come Pirlo che era veramente un fuoriclasse dell'anticipazione motoria io so da dove parte la palla, io so dove voglio ricevere la palla io so dove voglio mandare la palla il calcio negli ultimi trent'anni è cambiato completamente perché fino agli anni Ottanta prima veniva il gesto tecnico cioè lo stop per esempio e poi la scelta di gioco oggi tu fai la scelta di gioco prima di ricevere la palla quindi in assoluto la capacità coordinativa è superiore a tutto quello che viene di contorno grazie per l'attenzione e buona continuazione grazie grazie per l'attenzione 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 Grazie a tutti.